ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video a distanza di qualche tempo ma poi non così tanto parliamo nuovamente di fast web perché ci sono delle belle notizie allora a parte la tariffa che tutti noi conosciamo al momento di 7 euro e 95 per avere 150 giga in 5g e qui c'è da fare una considerazione importante in quanto il 5g di fast web è paragonabile esattamente alla migliore prestazione possibile sull'ibts di fast web barra wind 3 perché come sapete o se non lo sapete fast web divide l'assegnazione del 5g con wind 3 quindi aggiungono in banda n78 quello che hanno entrambe in concessione per darle ai propri rispettivi clienti le prestazioni di fast web come abbiamo visto anche negli ultimi test fatti nei recenti video sono addirittura almeno da me superiori anche a quelle di wind 3 siccome nell'ultimo periodo ho ricevuto tantissime ma dico tantissime testimonianze da parte vostra di spirit test in tutta italia dove stanno dimostrando che la larghezza di banda a 60 makers finalmente è presente in tantissime bts un po sparse ancora di lavoro ce n'è da fare parecchio per riuscire a dare questo tipo di servizio veramente a tutti sia fast web che wind 3 a dare questa larghezza di banda e determinate prestazioni però i spirit test che mi inviate sono sempre maggiori e sempre con velocità più alte allora cosa ho pensato di fare ho pensato visto che comunque a questo prezzo non c'è nessun operatore in italia che vi dà la massima velocità la massima priorità in antenna come fa fast web grazie anche all'accordo con wind 3 ma a quel prezzo visto che non hanno differenze tra i prezzi delle tariffe come fanno altri operatori che dipende quanto pagate andate a una determinata velocità o una determinata priorità con qualsiasi che poi ce n'è una tariffa di fast mobile avete le massime prestazioni la massima priorità sfruttando appunto l'accordo fast web wind 3 quindi le bts diciamo prevalentemente di proprietà di wind 3 barra fast web allora cosa ho pensato di fare ho pensato di passare il mio numero principale che ho nel mio iphone 13 passarlo direttamente a fast web però ho scelto la strada più lunga potremmo andare in un negozio fare tutto ci pomeriggio e fare partire la portabilità quindi attivare la sim e fare partire la portabilità che nell'arco di un paio di giorni sarebbe già andata a buon fine invece ho scelto la strada più lunga ossia quella di fare l'ordine direttamente online questo perché perché chi mi segue sa che io ho già una sim fast web 5g che è esattamente quella che ho usato per gli speed test e fare i test adesso voglio provare non solo questa sim nel mio top di gamma che ho a disposizione che l'iphone 13 pro ma voglio viverci con fast web cioè voglio veramente vedere nel corso di tanto tempo quindi non aspettatevi il video definitivo magari ne farò uno intermedio ma voglio veramente provare anche in giro quando parto in giro per l'italia anche in zone remote come va veramente il questo operatore quanto riesce a saltare la saturazione che hanno molti clienti che si appoggiano alla rete wind 3 sia con i virtuali che con wind 3 stessa e vedere se fast web come ho dimostrato almeno solo nella mia città addirittura ha delle prestazioni maggiori di della stessa wind 3 quindi bisogna viverla quindi poi il video definitivo lo farò probabilmente tra qualche mese le buone notizie appunto come vi ho detto sono esattamente quelle che mi avete fornito voi le vostre testimonianze anche alcuni miei amici tra virgolette anche collaboratori ovviamente con prestazione gratuita perché non posso permettermi di pagarli in quanto di incassire il canale il mio un piccolo canale un piccolo canale anche se da voi apprezzatissimo io vi ringrazio ma è sempre un piccolo canale che si autofinanzia e non può permettersi di finanziare e dividere quel poco di utile che che faccio per per dividerlo anche a chi mi aiuta volontariamente tutto quello che guadagno come sapete lo investo nel canale in attrezzature smartphone e via dicendo e quindi voglio proprio vivere realmente fast web in tutti i luoghi dove mi sposto vedere anche nei luoghi affollati se si soffre di quella famosa saturazione che purtroppo in mezzo italia fino a quest'estate si soffriva ancora abbiamo un grande punto interrogativo anche perché già so che ci sono molte zone dove ancora la saturazione purtroppo di wind 3 è inaccettabile visto la grandezza e l'importanza dell'operatore comunque stanno lavorando veramente bene ovviamente non parlo delle zone dove c'è il dss anche se lo voglio vivere il dss ma come sappiamo ormai wind 3 sta attivando lenne 78 quindi il più performante 5g in po in tutta italia e stanno lavorando massicciamente quindi oltre le notizie positive che vi ho dato in qualche video scorso per quanto riguarda la rete team di cui comunque mi occuperò anche prossimamente realizzando un video e parlandone più nei dettagli perché dove stanno lavorando e cambiando le bts in dalle vecchie huawei alle nuovissime l'ultima generazione ericsson la situazione finalmente si sta ribaltando anche per quanto riguarda team anche se il lavoro da fare di team è ancora più grande di quello di wind 3 bisogna dire barra fast web perché sono troppe le bts ancora vetuste presenti sul territorio nazionale però almeno nei grandi comuni le stanno veramente sostituendo almeno le principali per offrire un gran servizio ma di questo ne parleremo dopo quindi voglio vivere fast web vedere veramente con questo prezzo stracciato e queste prestazioni teoriche e che poi sono anche reali come si riesce a vivere e che se le prestazioni veramente sono stabili e continueranno ad essere stabili io mi aspetto che ovviamente con l'aumentare dell'implementazione dei lavori anche di riammodernamento o della degli impianti stessi più che altro dotandoli di fibra quindi fibrandoli tutti evitando il ponte radio o per lo meno quelli fibrabili e allargando la banda n 78 a 60 mega anche i progressi che avverranno nelle prossime settimane nei prossimi mesi ed è per questo che ho scelto di portare il mio numero principale in fast web allora l'operazione più lunga perché perché quando ho fatto la vecchia sim fast web c'è la vecchia relativamente quella che ho ho avuto tanti problemi a farlo online già vi posso dire che facendolo online l'operazione abbastanza farraginosa in confronto ad altri operatori in quanto ci sono tantissime cose che vengono dette ad esempio che l'area clienti una volta fatta la richiesta tu puoi seguire tramite nell'area clienti la spedizione della sim lo stato e vi ricendo ma io ho fatto stamattina la richiesta adesso sono le 18 e 25 ancora nel sito non si può entrare da errore c'è un problema vi ricendo mentre mettendo l'altra l'altra utenza quella dell'altra sim funziona benissimo quindi più che un problema penso che ancora devono creare il profilo anche se nel comunicato mi avevano detto cioè hanno scritto che già da subito potevo seguire i vari passi cosa non vera poi per la portabilità mi hanno mandato una mail con il contratto giustamente come fanno tutti copia del contratto e anche il foglio per la portabilità quindi il foglio da firmare quindi stile 1 mobile per la portabilità questa altra anomalia che con gli altri operatori non si fa non si fa assolutamente è vero che sono cambiate le regole della portabilità però si possono fare e si fanno direttamente nel momento della video identificazione facendo l'ordine della sim online ci sarà una video identificazione così mi hanno avvertito vedremo come andrà quindi prima il primo step è stato quello di inviare l'autorizzazione direttamente a fast web per la portabilità e quindi compilando quel modulo praticamente firmandolo semplicemente aggiungendo dccd della mia sim che devo passare appunto a fast web è sperito via mail quindi già questo è una cosa in più che si deve fare poi c'è scritto che in un secondo momento devo fare l'attivazione quando mi arriverà la sim dovrò fare l'attivazione della sim fare la ricarica perché ho chiesto la formula ricaricabile attenzione perché si sa che anche la formula ricaricabile se non ricaricate poi vi arriva il bollettino a casa però non sarà questo il mio caso perché ormai questa è una cosa acclarata per il semplice fatto che io comunque un sacco di credito tantissimo credito nella sim che devo portare il numero principale quindi andrò praticamente per più di un anno andrò per più di un anno con il credito quindi dovrebbe funzionare in questo modo ma non solo poi c'è scritto che un secondo momento una volta attivata questa sim per far partire la portabilità devo ricevere un sms dove io devo confermare che la portabilità e io la voglio quindi non solo questo modulo firmato ho dovuto mandare ma dopo rispondere a quelle sms e poi successivamente dopo non è ancora chiaro se nelle sms stesso in qualche altra forma dovrò mandare anche la foto della sim questo è per legge adesso è cambiata la legge quindi la foto della sim ci vuole ma lo potevano fare in un modo molto più semplificato certo sarei potuto andare nel negozio vicino casa mia e fare tutto quindi è già avrei la sim attiva la portabilità sarebbe partita in due giorni già avrei il 5g ma io voglio fare appunto la la l'attivazione più lenta quindi l'ordine più lento quindi in una settimana mi dovrebbe arrivare la sim poi vi racconterò se tutto andrà liscio tutto andrà bene se il 5g sarà subito attivo se sarà attivo dopo se la portabilità andrà a buon fine se ci saranno problemi con la video identificazione insomma sto cercando appunto il percorso più difficile ovviamente per poi testimoniarvelo perché io devo fare da apri vista a tutti quelli che vogliono passare a fast web nel modo in cui sto passando io io ovviamente vi consiglio che se dovete passare a fast web se lo dovete fare fatto in un negozio perché come vi ho detto prima è molto molto più veloce benissimo allora questo è l'inizio di un progetto appunto dove ho messo il mio numero personale vedremo un po come si comporterà anche iphone 13 pro in confronto allo xiaomi mi 11 lite 5g che ho sempre testato dove vi ricordo è andata a vedere il video se non l'avete visto c'è una playlist nel mio canale youtube proprio nella home page ci sono delle playlist tra cui c'è una playlist dedicata solo esclusivamente a fast web quindi è facile trovare i vari video anche quelli di anni fa per vedervi tutta la storia dell'evoluzione di questo operatore quindi vedremo vedremo un po come andrà a finire questi video andranno direttamente anche poi in playlist ho scelto la strada più lunga appunto per vedere e testare al posto vostro prima di prima di voi appunto per testimoniarvi come vanno le cose però se avete un negozio andate al negozio non fate questa procedura che ho fatto io perché già da quello che sto vedendo insomma in confronto ad altri operatori ancora dopo tanti anni abbastanza farraginosa speriamo che il tutto vada liscio allora una cosa veramente importante siete arrivati qui a questo punto del video non posso fare altro non spegnete il video per favore quelli vi invito a iscrivervi se siete nuovi quindi iscrivervi al canale cliccare la campanellina per essere sempre aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi video perché sui social instagram e anche il numero whatsapp vi scrivete spesso facendomi delle domande che ho trattato anche molto recentemente nei video quindi è evidente che non cliccate la campanellina e non siete a conoscenza dei video che produco in quel modo vi arriva invece l'avviso se l'argomento è di posto interesse lo guardate io infatti non faccio altro che invitare le persone guarda che ho già fatto un video ti mando il link e vi dicendo diciamo che perdete tempo voi e io potrei invece potrei dedicare più tempo anche a invece ad altri quesiti che mi ponete perché su instagram rispondo e anche su whatsapp acquisiti e do consulenza a tutti quanti voi oltre che informarvi sulle notizie gli aggiornamenti sugli operatori mobili sugli argomenti già trattati e oppure dare notizie che non richiedono la realizzazione di un video il miglior modo per supportare uno youtuber oltre che iscriversi ovviamente cliccare la campanellina e mettere like ragazzi il pollicione in su è fondamentale nei video fondamentale perché l'algoritmo di youtube tiene conto per diffondere a più persone possibile fare conoscere il mio canale di quanti like mettete quanti commenti mettete sotto il canale poi c'è anche la possibilità di supportarmi tramite l'abbonamento ci sono vari step di abbonamento il primo tutti lo possono fare perché è un abbonamento mensile che costa esattamente quanto un caffè al mese quindi un caffè al mese mi offrite penso che tutti quanti lo possiamo fare perché non farlo se mi seguite mi aiuterete se siete in tanti ovviamente ad andare avanti e investire appunto sul mio canale in attrezzature e via dicendo poi se avete più buon cuore o più disponibilità ci sono vari step di abbonamento dove l'abbonamento mensile può anche costare di più ma andate a dare un'occhiata perché è veramente ridicolo quello base quindi se volete fare anche solo quello base io non posso fare altro che dirvi grazie spesso metto dei video in anteprima solo per gli abbonati e poi dopo qualche giorno escono per tutti quindi avete già questo vantaggio più ci saranno abbonati al mio canale e più vantaggi posso mettere sino adesso ne ho veramente pochi quindi per il momento oltre che ringraziarvi per il supporto perché gente che mi segue veramente da tanto tempo e che mi appoggia mi iscrive sempre dopo per adesso la possibilità di vedere alcuni video in anteprima quando posso programmarli molto prima i video qualche certe volte tipo oggi programma un dice programma e registro un video quello pubblico perché ho necessità di pubblicarlo adesso prima che poi mi arrivi la sim e inizi il progetto quindi sono reperibili su instagram dove vi do anche in notizie sul mia vita privata cerco di intrattenervi non ogni giorno ma almeno quando faccio qualcosa di interessante c'è il tempo per farlo escono spesso cose anche abbastanza carine quali per esempio le storie che ho fatto nella su instagram per quanto riguarda il mio viaggio a roma sono degli inediti che ormai non sono più visibili in quanto erano storie quindi sono cose in più decisamente in più che ho fatto vedere al di fuori del video del mio viaggio a roma che è l'ultimo uscito che se non l'avete visto vi invito ad andarlo a vedere dove si parla anche di operatori mobili nella nostra capitale c'è anche il mio referral link amazon per supportarmi per voi è totalmente gratis se cliccate al referral link amazon supporterete il canale degli acquisti non spendendo un solo centesimi in più nel mio canale telegram ogni tanto metto delle offerte in amazon direttamente che possono interessare qualcuno quindi sempre su telefonia e tecnologia o cosa del genere basta cliccare sulla figura e sul prodotto nel canale telegram che già vedete anche giù in descrizione anzi iscrivetevi direttamente arriverete pure a supportarmi gratuitamente quindi avete tanti modi di supportarmi gratuitamente mettendo i like iscrivendovi al canale e per quelli che sono un po più generosi e che lo vogliono fare e lo possono fare c'è anche la possibilità dell'abbonamento benissimo io vi ringrazio per l'attenzione vi farò sapere ovviamente con un video quando riuscirò ad attivare avverrà la portabilità e poi pian piano realizzeremo tutto il resto vi ringrazio per l'attenzione un abbraccio e un saluto da giuseppe grazie a tutti grazie a tutti